Musica Un cordiale bentrovate a voi tutti dal telegiornale delle Marche di TVRS, l'ufficializzazione della nuova giunta regionale, l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Macerata, la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella ed ovviamente i dati sulla pandemia al centro del nostro notiziario. Oggi pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello, è stata svelata la composizione del nuovo esecutivo guidato da Francesco Acquaroli, il primo di centro-destra dal 1970. Il Presidente terrà per sé le deleghe alle politiche europee, compreso il recovery fund e dal turismo, Vice Presidente Mirko Carloni della Lega, che avrà l'assessorato alle attività produttive, all'agricoltura, Francesco Baldelli, Fratelli d'Italia, infrastrutture e lavori pubblici. Stefano Aguzzi, in quota Forza Italia, sarà l'assessore esterno ad ambiente, lavoro e formazione. La deputata Giorgia Latini, fabrianese ma residente da tempo ad Ascoli, lascerà la Camera per assumere le deleghe di Cultura e Sport. L'ex sindaco di Cingoli ed ex senatore Filippo Saltamartini, sarà il nuovo assessore alla sanità. Infine l'ex primo cittadino di Ascoli, Piceno Guido Castelli, avrà le deleghe bilancio e ricostruzione post-sisma. Presidente del Consiglio regionale sarà Dino Latini dell'Udc. La nuova giunta è uno schiaffo alle donne marchigiane, questo è il commento del segretario regionale del Partito Democratico Giovanni Gossoli. L'esecutivo infatti ha una sola presenza femminile su sette, proprio quando si legge in una nota la parità di genere, che è motore di sviluppo, può diventare un obiettivo del recovery fund. Ne parleremo diffusamente nell'edizione di domani di On Air News. Cambiamo argomento, 20 minuti di intervento e quasi 4 di standing ovation. Per il Presidente della Repubblica ha intervenuto stamane a Macerata per l'inaugurazione del 730esimo anno accademico dell'Università. Per noi al Teatro Lauro Rossi c'era Maurizio Verdenelli. Vediamo. In 53 anni di mestiere, avendo seguito il Presidente della Repubblica da Giovanni Leone ad oggi, mai mi era capitato di assistere ad un coinvolgimento così intenso come quello di oggi da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non previsto ha preso la parola e ha parlato per 20 minuti una vera e propria lexio magistralis, ringraziando soprattutto, ma insieme tutti, il Professor Luigi Alici, che l'apologo che era stato poi nella parte finale, l'uomo e il docente, che aveva raccontato in una sintesi perfetta, come l'umanesimo sia la vera che innova, l'umanesimo che innova sia la perfetta sintesi tra passato e futuro, passato, futuro e giovani, soprattutto giovani. Mattarella su questo ha avuto un'enfasi particolare, parlando appunto di una mattinata particolarmente significativa e ringraziando davvero tutti per il cumulo e la dottrina che in due ore era emersa dal palco del Teatro Lauro Rossi nel ricordo dei 730 anni dell'Università di Macerata. Il Capo dello Stato ha anche dato significative risposte alla richiesta venuta dal Governatore Acquaroli, dal Sindaco Parcaroli e da altre autorità per la ricostruzione post-sisma. La seguo ogni giorno con particolare cuore, ha raccontato e ha detto il Capo dello Stato. E' la dimostrazione che è un Ateneo il nostro molto reputato e che ha avuto un percorso storico in cui la reputazione stessa ha avuto dei momenti di illuminazione ulteriore. E' successo con il Presidente Ciampi e in una continuità ideale, oltre che fisica, succede oggi con il Presidente Mattarella che ci onora della sua presenza e soprattutto con la sua presenza infonde fiducia alla comunità accademica e alla città, come lo fa del resto con l'intero Paese. Peraltro il Presidente da Costituzionalista sa che il nostro Ateneo ha una tradizione di docenti di diritto costituzionale che sono stati Presidenti della stessa Corte. Piero Alberto Capodosti, Annibale Marini e da ultimo Paolo Grossi che è stato, diciamo, nello stesso collegio della Corte in cui c'era all'epoca il Presidente Mattarella. che non dimentichiamo quando fu eletto Presidente della Repubblica era giudice costituzionale. E Costantino Mortati? Ecco, in particolare ho fatto bene ad aggiungerlo perché abbiamo allestito una sala nel foyer del teatro in cui ci sono i totemi di tutte e quattro, i tre Presidenti che ho nominato e Costantino Mortati. Il coronavirus, purtroppo, con i suoi dati continua a tenere tutti in apprezzione, Marche Comprese dove i neocontagiati nelle ultime 24 ore sono stati 140 nel percorso Nuove Diagnosi in media 1 ogni 19 tamponi analizzati. 42 provengono dall'Anconetano, 32 dalla provincia di Fermo, 25 dal Maceratese, 23 dalla provincia di Ascoli Piceno, 18 da quella di Pesaro Urbino. Da segnalare i 37 casi rilevati dal setting domestico, 26 sintomatici e 19 casi dall'ambiente di vita divertimento. I ricoverati sono attualmente 70, in leggera diminuzione rispetto ai 72 di ieri. 9 di questi sono in terapia intensiva, 3 a Torrette, 3 a Marche Nord e 3 a San Benedetto del Tronto. A livello nazionale, nuovo record di positivi, 8.804 e nuovo record anche di tamponi analizzati, quasi 163.000. E passiamo ora alla cronaca. 18 manufatti abusivi con mini appartamenti e sauna individuati e sequestrati lungo il litorale di Porto Recanati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sara Santacchi. 18 manufatti abusivi in murature prefabbricate, tra cui alcuni mini appartamenti, un locale adibito a sauna e altre unità utilizzate come deposito per 1.230 metri cubi complessivi. Tutto è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Porto Recanati, cui agenti avevano notato in una zona del lungomare alcuni manufatti di recente realizzazione, nascosti da una folta vegetazione composta principalmente da canneti. Le fiamme gialle, controllando il territorio, si sono insospettite per la presenza di attrezzature e materiali impiegati per l'edilizia e l'assenza di ogni cartello autorizzativo. Le approfondamenti effettuati hanno permesso di ricostruire la situazione originaria del sito e gli abusi ed elizi commessi sullo stesso. È scattata quindi la denuncia all'autorità giudiziaria a carico del ristoratore, risultato avere in locazione l'area che si estende per circa 20.000 metri quadri. Le costruzioni, peraltro, sono risultate realizzate in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e per di più collocata in zona sismica. Al termine delle indagini, i finanzieri hanno dato esecuzione al sequestro su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio. Ancora cronaca, un cinquantenne affetto da problemi psichici di varia natura ha tentato di togliersi la vita insieme al suo fedele cane nella notte in via Pian del Medico a Iesi. L'uomo ha dato fuoco alla sua macchina e le fiamme sono state notate da un passante che ha immediatamente chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorsi sono riusciti in tempo ad estrarlo dalle lamiere ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per l'animale. Pochi giorni fa agenti della questura di ferma hanno notato in un centro dell'entroterra la probabile cessione di una dose di droga da un'abitazione ad un individuo all'esterno. È stato perquisito l'appartamento del trentenne già sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ed è stato rinvenuto quasi un grammo di cocaina e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il giovane stavolta si sono spalancate le porte della casa di reclusione. Un 27enne macedone residente a Muce è stato arrestato a Serravale di Chienti è ritenuto infatti responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex moglie ed era già stato fatto oggetto di un provvedimento di divieto di avvicinamento. Era stato visto a girarsi nei pressi dell'abitazione della donna 29enne nascosto dentro un'autoclave tra due botti e sorpreso con un taglierino. Confiscata l'abitazione di un uomo che in qualità di amministratore di sostegno sottraeva dei soldi alla madre malata succede nel Monte Feltro. Vediamo. Si appropriava del denaro della mamma malata senza nemmeno pagare la retta della struttura che la ospitava. Così la Guardia di Finanza di Urbino ha confiscato l'abitazione di un soggetto di Monte Calvi in Foglia che era stato nominato amministratore di sostegno dell'anziana madre sofferente di una grave patologia neurologica. Lo stesso anziché occuparsi della donna le aveva sottratto dal 2013 al 2016 circa 27 anni 2.600 euro accumulando nel contempo un notevole debito verso la casa di riposo. Proprio questo aveva spinto i competenti servizi sociali ad attivare l'autorità giudiziaria competente che affidava alle fiamme gialle gli accertamenti del caso. I finanzieri dopo scrupolose indagini anche bancari sui conti del soggetto ricostruivano gli eventi e lo segnalavano per il reato di peculato. Il tribunale quindi con sentenza confermata anche in appello disponeva il sequestro dell'immobile. commozione davvero bipartisan ed arrivata da tantissime autorità per la prematura morte di Iole Santelli la presidente della regione Calabria che ha perso la vita questa mattina nella sua abitazione di Cosenza da appena 51 anni fatale un'emoragia interna causata dalle patologie tumorali di cui soffriva tra i tanti messaggi anche quelli dei sindaci di Pesaro Matteo Ricce di Macerata Sandro Parcaroli e del presidente della regione Francesco Acquaroli Sabato prossimo l'hotel Federico II di Iesi Lanci Marche e l'associazione dei comuni rinnova i propri organismi nel corso di un'assemblea congressuale sarà eletto il nuovo presidente del direttivo dopo la relazione di Maurizio Mangialardi nella seconda sessione prevista nel pomeriggio i sindaci del cratere incontreranno il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini Cambiamo ora argomento è stato presentato all'Oreto lo spettacolo l'Italia chiamo dedicato alla battaglia di Castelfidardo decisiva per l'annessione delle marche al nascente stato unitario sentiamo Manolita Scocco uno dei pochi eventi teatrali in epoca covid è quello che andrà in scena nella massima sicurezza al palacongressi di Loreto questo sabato 17 ottobre alle 21 Italia chiamò uno spettacolo dedicato alla battaglia di Castelfidardo città dove ha debuttato l'anno scorso con due repliche da tutto esaurito passato poi anche a Tolentino sempre con un buon successo di pubblico e gradimento nella sala consigliare del comune di Loreto la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Moreno Pieroni e il neossessore alla cultura Francesca Carli per quello che mi riguarda sono certo che ancora una volta Loreto sarà la città dell'accoglienza e quindi questo accogliere questo appuntamento è fondamentale per dare un bel messaggio ancora più in questo momento dove tutte le restrizioni a cui noi giustamente dobbiamo stare sono difficili da superare e credo che il Palacongressi è uno spazio importante e non possiamo utilizzare tutti gli 850 posti ma possiamo avere al massimo 200 posti e credo che avremo una bella risposta non soltanto da Loretani ma da tutto il comprensorio presenti anche Ruben Cittadini assessore del comune di Castelfidardo Victor Carlo Vitale autore e regista dello spettacolo teatrale e Franco Oppini protagonista beh è un'emozione che mi rende felice ma anche un po' mi rattrista perché è un ritorno per uno spettacolo ne farò un altro di un altro di un altro testo su Rodari il 24 a Napoli forse e ci ritroviamo dopo le vicende ben note quindi c'è uno sprazzo di luce però mi rattrista perché c'è gente in televisione che dice che il teatro si possono anche chiudere perché tanto non hanno nessun rilievo economico un cretino e purtroppo questo potrebbe anche succedere ma non solo per il Covid per il fatto che il teatro con queste restrizioni pur essendo uno dei luoghi che si è scoperto uno dei più sicuri perché ci sono stati pochissimi contagi nel campo teatrale però non è economicamente possibile che un teatro tipo da 300 posti possa ospitare 100 persone economicamente non ce la fanno lo spettacolo è sostenuto con i fondi della legge regionale 5-2000 dedicata proprio alla battaglia di Castelfidardo e Tolentino come progetto di sensibilizzazione e costruzione della memoria collettiva intorno ad un evento che mise il sigillo definitivo sull'unità d'Italia insieme a Franco Pini altri attori molti dei quali locali come Jacopo Cicconofri Simona Ripari Filippo Mantoni e la presenza del soprano Annalisa Sprovieri Siamo alla pagina sportiva capriamo con il calcio Federico Dionisi dell'Aquila e l'arbitro designato per dirigere Frosinone Ascoli match valido per la terza giornata del campionato di Serie B in programma sabato alle 14 allo stirpe di Frosinone gli assistenti sono Alessio Berti della sezione di Prato e Domenico Palermo di quella di Bari nella pallavolo femminile nettissimo successo della Megabox Valle Foglia che sale in testa la classifica del Girone Est di Serie A2 in coabitazione con il Cutrofiano battendo con il massimo scarto l'Olimpia Teodora a Ravenna parziale a 22-16-15 prestazione maiuscola da parte della squadra bianco-verde guidata dalla Bacchi che alla fine metterà a segno 19 punti la gara sarà trasmessa domani indifferita dalla nostra emittente alle 21 sul canale 111 posticipo stasera per la CBF Balducci che alle 20.30 attende a macerata la visita del Tlamassons al Palasport potranno accedere un massimo di 200 spettatori seconda trasferta consecutiva invece in Superlega per la Lube che torna da Piacenza con altri tre punti dopo cinque giornate i bianco-rossi hanno 14 punti nel carniere solo uno in meno rispetto a Perugia vediamo il servizio vittoria pesante per la Lube che si impone a Piacenza sul campo di una squadra ritenuta da molti la quarta forza del campionato i padroni di casa guidati da Lorenzo Bernardi hanno venduto cara la pelle pur penalizzati dal forfe di Grozer ben sostituito comunque dall'esperto Antonov ed è stata battaglia vera soprattutto nel primo e nel quarto set che i cucinieri però riescono a strappare con le unghie con i denti 29-31 e 23-25 sono state un po' le svolte dell'incontro che ha vissuto per il resto su binari di grande equilibrio con Russell scatenato tra i piacentini la Lube è riuscita a rispondere con Rich Licky top scorer dei suoi con 19 punti e soprattutto con Robert Landy Simon autore di 5 muri tutti determinanti e 2 ace taglia gambe per gli avversari ovviamente tre punti che permettono agli uomini di De Giorgi di rimanere in scia di Perugia ancora a punteggio pieno ma si torna nelle marche dopo due trasferte con il massimo del bottino possibile una vittoria molto importante anche perché Perugia ha vinto tuttavia questa cassevi ha fatto sudare più del dovuto sì oggi ma noi lo sapevamo perché comunque diciamo che Piacenza arrivava da comunque due partite buone sia con Perugia che con Trento dopo abbiamo visto che il riscaldamento non c'era a Groser e non abbiamo pensato assolutamente che la partita fosse facile anzi infatti si è dimostrata una squadra tosta una squadra che comunque è completa anche con delle defezioni importanti poi io vabbè conosco bene l'allenatore quindi so come quello che trasmette proprio i ragazzi lo spirito di sacrificio e sapevamo che poteva essere difficile come l'è stato dopo noi dobbiamo migliorare su tanti aspetti perché siamo ancora troppo con dei ritmi alti e bassi e questo questo non va bene Simone per quanto riguarda la tua prestazione hai tolto le castagne dal fuoco diciamo così in diversi momenti sei soddisfatto? diciamo che io guardo di più al collettivo che al singolo perché noi siamo una squadra costruita per vincere non dobbiamo nasconderci dietro un dito e dobbiamo migliorare tutti dobbiamo migliorare nelle piccole cose nelle robe più semplici io in primis perché i nostri obiettivi sono sono molto alti e puntiamo ad arrivare fra non so quanta è la tempistica ma a giocare molto meglio rispetto a questo quindi siamo soddisfatti ma in parte domani inizia la stagione del volo di Spiker la nostra trasmissione esclusivamente dedicata alla palla a volo gli orari del programma restano invariati il venerdì alle 21.30 sul canale 111 e dalle 22.45 sul canale 11 di TVRS ci sono purtroppo da registrare dei casi di positività la med store macerata la compagine maschile di serie A3 in conseguenza di ciò non solo è stata rinviata la presentazione prevista per domani alle 12 ma anche la prima gara di campionato a Ferrara contro il Porto Maggiore lunedì sera i tesserati della società stanno bene sono asintomatici si attendono in queste ore le risposte per gli altri componenti della squadra vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 16 ottobre amici trebi meteo bentornati a questo giornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà un graduale allontanamento verso l'est della bassa pressione formatasi sull'Italia quindi il tempo in qualche modo tende a migliorare anche se variabilità resta la parola d'ordine andiamo a controllare la nuvolosità attesa sull'Italia inizialmente tante nuve insisteranno ancora al nord poi comincia a rasserenare sulle regioni di nord-ovest invece nel pomeriggio altre nuvi si formeranno nelle zone interne del centro-sud e come precipitazioni qualche acquazione sarà ancora possibile a nord-est e poi appunto nelle ore pomerdiane si formeranno dei temporali e dei piovaschi nelle zone interne dell'Italia centrale e sul basso tirreno quindi in definitiva venerdì che vedrà sì un miglioramento del tempo però ancora un po' di variabilità a nord-est zone interne dell'Italia centrale basso tirreno con degli acquazzoni dalle altre parti aperture sempre più ampie e come temperature valori che cominciano a guadagnare qualche grado al centro-nord per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo ancora calcio la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha colto il reclamo della Fermana contro la squalifica di tre giornate in fritta a Marco Manetta dopo la gara di San Benedetto la stessa sanzione è stata ridotta a due turni e quindi il giocatore tornerà a disposizione di mister Antonioli per l'impegno di mercoledì nel turno infrasettimanale di campionato con il Gubbio in Serie D si giocherà a Porta Aperte domenica al Tubaldi alle 15 la gara tra Re Canatese e Porto Sant'Elpidio l'acquisto del biglietto potrà avvenire attraverso il circuito Viva Ticket e solo per questa giornata tramite la biglietteria ospiti in Via Moretti domani dalle 17 alle 20 e sabato dalle 9 alle 12 ovviamente obbligo della mascherina e di rimanere nel posto preventivamente assegnato con questo è tutto per il telegiornale grazie appuntamento a domani Grazie a tutti